Buongiorno e benvenuti al TG Web della Nazione. A Firenze oggi una madre di 80 anni e il figlio cinquantenne sono stati denunciati per truffa e falsità materiale. I due acquistavano per così dire con assegni falsi mobili d'epoca, avevano acquistato mobili d'epoca per un valore di 76 mila euro e poi li avevano venduti a antiquari fiorentini. Restiamo sempre nella provincia di Firenze, un giovane tunisino sordomuto è stato arrestato per minaccia aggravata nei confronti del capotreno che le aveva chiesto di pagare il biglietto. Era già da mesi che l'uomo viaggiava con il treno regionale della tratta Firenze-Borgo-San Lorenzo senza pagare il biglietto e già in varie volte era capitato che minacciasse il capotreno una ragazza di 25 anni proprio perché gli veniva richiesto il biglietto. Questa volta l'uomo è stato arrestato per minaccia incaricato di pubblico servizio e per lesioni. Ora andiamo a Pisa dove questa mattina c'è stata un'operazione antidroga dei carabinieri del comando provinciale. Sono stati eseguiti 13 arresti nei confronti di altrettanti senegalesi che vivono nelle province di Pisa, Milano e Bergamo appunto per spaccio internazionale di cocaina. A Lucca invece l'arcivescovo di Pisa Giovanni Paolo Benotto ha chiuso la chiesa del Santissimo Nome di Maria di Fornacivecchia appunto a Lucca dove è stato scoperto il furto dei ostie consacrate custodite nel tabernacolo. Si tratta molto probabilmente di un gesto dietro il quale ci sono delle sette sataniche che utilizzano le ostie per le messe nere e ora la chiesa, secondo quanto dice il diritto canonico, dovrà essere riconsacrata. E ora una notizia di cultura. È stata ritrovata a Firenze la corona che Vittoria della Rovere, moglie del Gran Duca Ferdinando II di Medici, fece realizzare nel 1685 per donarla alle suori carmelitane di Borgopinti come segno della sua devozione per Maria Maddalena De Pazzi. La corona è stata rintracciata insieme ai documenti che testimoniano committenza e caratteristiche dallo studioso fiorentino Piero Pacini, il quale ne dà notizia in un articolo di approfondimento con fotografie sul nuovo numero di Medici, a rivista interdisciplinare di studi Medici. Bene, questa è la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguito. Arrivederci al prossimo TG Web della Nazione.